Vuoi giocare? Non perdere la tua occasione! Dov'è la palla? Lì! Incredibile! La fortuna è dalla tua parte! Era facile! Voglio farlo ancora avanti! Sei un giocatore nato! Sono sicura che sarai fortunato anche questa volta! Scegli cosa puntare e ti re-indovinare! Commetto questa, mi schia, so che posso indovinare! Fatto! Scegli! La palla è lì! Ops! Non è lì, è lì! Ti sei sbagliato ancora! Devo andare! Buona giornata! No! È impossibile! È un imbroglio! Dove troverò i soldi adesso? Wow! Proprio al momento giusto! Signore, ha un minuto! Gioca da cico con me! Ogni volta che vincerai, ti darò 10.000 dollari! Ma se perderai, allora tu mi darai i soldi! Sono pronto! Giocavo da cico quando ero piccolo! Avanti! Tocca a me! Scusa, ma se non hai i soldi devi pagare in un altro modo! Non puoi battermi! Pallone gonfiato! A quanto pare nemmeno un semplice gioco per bambini! Così semplice! Aspetta, aspetta! Questa volta faccio io! Beh, hai perso! Ok, ora lo capovolgo! Vedrai! Sì! Ho vinto! Dove sono le tue guance? Ecco i tuoi soldi! Ne vuoi di più? Chiamami! Un attimo! Ho sbagliato la carta! Ma dove è andato? Ok! Oh, soldi! Diventerò ricco! Dovrei chiamare! Allora, pronto? C'è qualcosa di strano! Oh mio Dio! Chi siete? Non vi darò i miei soldi! Che volete da me? È gas soporifero! Oh, ha un buon odore! 39! Hai portato un deodorante! Sei strano! Sto ancora sognando! C'era una volta una principessa? Oh, questo è interessante! Oh, buongiorno! Ci stavamo chiedendo quando ti saresti svegliato! Questi ciondoli ora saranno i nostri talismani! Ti amo, cara! Dove sono finito? Quel tipo sembra spaventoso! A proposito, che succede qui? Non mi piace questo posto! Beh, almeno c'è uno specchio! Anche se, un attimo, c'è qualcosa che non va qui! Ragazzi, venite! Sembra che qualcuno ci stia guardando da lì fuori! Sembra che siamo in una specie di trappola! Trappola? Ehi tu, laggiù! Dici che sta succedendo qui! Sì, non sarà facile uscire da qui! Ho un'idea! Ascoltate! Una rivolta! Lasciateci andare a casa! Vogliamo andare a casa! Assolutamente no! Dobbiamo fare qualcosa! 39! Fagli vedere i soldi! Salute, giocatori del gioco! Vi informo che i vincitori riceveranno un enorme premio in denaro! Che c'è che non va in questo telecomando? 39, vieni qui! Sono qui, comandante! Dove hai lasciato la testa? Questo è il telecomando sbagliato! È questo! Esatto! Oh, guardate! Ha funzionato! Così tanto! E la quantità crescerà! Santo cielo! Scusa, chiunque tu sia, noi abbiamo deciso che giocheremo! Quindi che il gioco abbia inizio! Cari VIP, scrivete nei commenti quale dei giocatori, secondo voi, ce la farà! E inoltre, iscrivetevi, mettete mi piace e cliccate sulla campanella! Dove siamo? Che dovremmo fare? Divertiamoci! Il gioco è iniziato! Non capisco! Vai e basta! Luce verde? Luce rossa? Perché si sono bloccati? Strano! Ehi, che state facendo? Lasciatemi andare! Dove mi portate? Luce verde? Luce rossa? Oh, devo starnutire? Si è girato? Wow! Andiamo! Oh! Wow! Sei una parte? Beh, sì, quasi! Tieni, Michat! Lo sto facendo! Luce verde? Luce rossa? Oh no! Ero così vicina! Il tempo ha quasi scaduto! Luce verde? Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Sta bene! Caglia, ce l'abbiamo fatta! Luce rossa! Mamma! Che paura! Luce verde! Luce rossa! Mi sono fermata in tempo! Oh no! Come ho potuto rovinare tutto! No! Sono innocente! Dove li stanno portando? Yammy, yammy, yammy! Questo è delizioso! Ma è già finito! Ehi, intelligentone! Condividi il tuo muffin! Scusa, sei arrivato in ritardo! L'ho già mangiato! Che peccato! Oh ragazzi, è che vi servono dei muffin interi? Tanto siete magri! Dategli a me! Non c'è niente da fare! Non abbiamo niente! Ecco il mio dolce muffin! Aspetta, Vic! Prendi quello che vuoi, ma non il muffin di Kaia! Ma io voglio quel muffin! Tesaro mio! Adesso ti mangio! Ops! Ha preso il mio muffin! Il tuo muffin! Il prossimo! Che golosi! Che sono queste urla strazianti? Ecco! Ora! Oh oh oh! Non ci voglio andare! Povero ragazzo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Se l'ha cercata! È vero! Iami! Tesaro! Chod, vai a calmare la tua ragazza! Allora, preparatevi per il prossimo gioco! Quale sarà? Non sono riuscito a capirlo! Venite fuori presto! Questo gioco è il tiro alla fune! Il compito di ogni squadra è quello di tirare la corda dalla propria parte e rimanere sulla piattaforma! Ho paura! Scappiamo! Oh no! Ci sono solo ragazzi in quella squadra! Vi distruggeremo! Squadre, preparatevi per l'inizio del gioco! 3, 2, 1, via! Oh! Tira! Tira! Oh no! Stiamo perdendo! Mamma, dobbiamo inventarci qualche trucco! Siamo spacciati! Dammi un secondo! So che il nostro lato debole può essere trasformato in uno forte! Tira! Kaia, prendi questo! Ma vieni! Vedi? Si può vincere anche quando sembra impossibile! Siamo una grande squadra! Oh oh! Ho tanta sete! Ehi, 102! Dammi un po' d'acqua! Mi dispiace, ho finito anche la mia! Bene! Oh, ehi, intelligentone! Dammi un sorso! Abbiamo tutti la stessa quantità! Oh, è così, eh! Appena si spegnerà la luce, sei morto! Non puoi ballare con me! Guardami a quattro occhi! Allora, giocatori! Dovete smontare la forma senza danneggiarla! Avete... 10 minuti! Oddio! È rimasto così poco tempo! Andiamo! Ci sono quasi! Oh, posso provare a sciogliere il biscotto dal retro leccandolo! Calmati, Josh! Ce la puoi fare! Ok, mentre le guardie non guardano, devo rischiare! Questo mi aiuterà! Oh oh! Cos'è quello? Ecco, usa questo! Farai più in fretta con un saldatore! Manca solo un pezzetto! È quasi finito! Ha funzionato! Ce l'ho fatta! Come si taglia? Chad, come hai fatto? Così, vedi? Mi stai prendendo in giro! È un brutto momento! No, no! No, no! Lecca il biscotto! Così! Ah! È un piacere! Grazie! Ecco, ce l'ho fatta! Congratulazioni! Spero anch'io che funzioni! Ah! Ancora un altro po'! Si è rotto! Sono condannato! La mia caramella! Scusa, niente di personale! Eccoce l'ho fatta! Ok, il giocatore 7 passa! Sì, ho quasi finito! Oh no! Il giocatore 52 è eliminato! Oh, soldi! Ehi, tutto qui? Beh, si è bloccato di nuovo! Ehi, torna indietro! Ma perché? Oh, accidenti! Cosa dobbiamo fare stavolta? Giocatori, dividetevi in squadre di due persone per giocare! Ehi, Leo! Sì, il mio partner! Non così in fretta, professore! Giocherai con me! Non importa come, finiremo il gioco insieme! Ogni giocatore riceve un sacchetto di biglie! Prendetelo e non perdete tempo! E tu verrai con noi! Allora, che dobbiamo fare? Gareggerete con il vostro compagno? No! Il vostro compito è quello di prendere le biglie del vostro compagno senza usare la forza! Bene, giochiamo! Cari VIP! Scrivete nei commenti qui sotto per quale giocatore ti fate! E aspettate la seconda parte di questa storia! Ti è piaciuto il video? Allora metti mi piace, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella! A presto!